Praticamente mio figlio ha più patologie, ha un'ipospadia severa della quale è già stato operato tre volte al Gaslini di Genova, ha un renectopico, in più ha un micropene e ora siccome ha avuto un aumento di peso di più o meno, stiamo tra i 10 e i 15 kg in un anno, si sospetta che abbia la Prader-Guilli, una patologia rara. Finora noi siamo andati avanti e indietro per queste operazioni, questi controlli perché lui deve essere continuamente controllato, dobbiamo renderci conto che abbia la vescica sempre pulita, che si svuoti, devo sempre stare a vedere come fa la pipì, in che modo lui la fa la pipì e quindi abbiamo sempre una valigia pronta per partire. E niente, ora, ripeto, si sospetta che abbia questa malattia perché dalle ultime analisi è risultato anche un'ipogonadia. Io chiedo aiuti perché ormai non ce la possiamo fare più. Siamo arrivati al limite con le spese, le partenze e le trasferte nel bilancio familiare hanno un notevole costo. E quindi cerco aiuto, anche perché abbiamo una casa, una famiglia, delle spese, abbiamo altri due figli, oltre a Anthony, tra la quale uno frequenta l'artistico di Maratea. E l'altro bimbo ha cinque anni, quindi i costi ci sono. Chiedo alle persone se mi possono aiutare, se possono percorrere insieme a me e a mio figlio questo nostro percorso. Grazie. Grazie.